Eccoci qua Mr. Helmet, stand Arlen Ness, i motociclisti è un dato di fatto, aumentano di età, 35-40 anni e quindi Arlen Ness è una joint venture con Moto & Moto Beats, che è un gruppo di lavoro napoletano ha prodotto la tuta di Actarus che è esattamente identica all'originale di Goldrake questa è una tuta Arlen Ness, niente da dire se non il fatto che è assolutamente uguale all'eroe che tutti noi amiamo da bambini, particolari assolutamente degni di nota fino ad arrivare al pendaglio Goldrake testa di Goldrake, assolutamente identica ad Actarus, non è questo il casco originale ma il casco è questo che è il Nex X30 che sarà in vendita, la tuta è venduta prodotta in 99 pezzi, serie limitatissima a 999 euro ci sarà anche questo casco, casco sia in versione normale con visiera normale, sia in versione con visiera da esposizione che si apre praticamente in modo quasi uguale al casco di Actarus del cartone animato che noi amiamo tutti è una cosa che ci avete richiesto in tanti perché siete praticamente impazziti ma ci sono solo 99 tute e vi dovete sbrigare ciao da Mr. Almet